Tra mille difficoltà sinceramente siamo riusciti a realizzare anche questa quinta edizione in forma leggermente più ristretta, malgrado abbiamo mantenuto comunque tutte le postazioni, tutti i mestieri che vengono rappresentati solitamente in un presepe. Quest'anno potete trovarlo al centro del paese, tutto dislocato a destra e sinistra, rallentando, perché il nostro presepe fortunatamente non ha bisogno del Green Pass e le famiglie possono venire tranquillamente in ampi spazi. Diciamo che questa opera, la ricordiamo, è stata realizzata dal paese tutta manualmente, le statue sono a grandezza naturale e sono costruite tutte in stoffa, i visi compresi, occhi, bocca ed è una particolarità di questo presepe. Va ricordato che questo presepe è stato visitato da un sindaco della regione Campania, nel comune di Salerno, il comune di Varonissi, nella provincia di Salerno, scusate, e ha colpito per la sua maestosità e ha fatto modo di far crescere un gemellaggio. Quest'anno hanno realizzato, per il primo anno, il presepe dei Ciliegie, del loro si chiama, alla stessa misura del nostro e ha riscosso un grande successo. La cosa che ci rende veramente orgogliosi è che il nostro presepe di una piccola comunità sia adesso dislocato a livello nazionale, speriamo che da questa idea ne nascono altre. Quanti personaggi ci sono? C'è un numero preciso? Personaggi come persone sono sui 150, più o meno quest'anno, ridotto di una metà quasi. e poi ci sono tutti gli animaletti che piacciono tanto ai bambini, tra piccoli e grandi, perché abbiamo i cavalli a dimensione naturale, abbiamo il buo a dimensione naturale, le galline, che le nostre galline sono particolari, sono costruite con le piume e sembrano quasi molto più realistiche queste di quelle vere, gli manca un po' il movimento, ci lavoreremo per i prossimi anni. È stato deciso di realizzare una lotteria abbinata al presepe, ma servirà l'incasso a sostenere le tre comunità perché la parrocchia è formata da Talacchio col bordo alle Montefabri. Abbiamo molte attività comunque parrocchiali con i bambini, il catechismo, oratori estivi che se non troviamo una fonte di sostentamento dovremmo nel tempo abbandonare, non ce lo meritiamo comunque perché siamo un paese di lavoratori. La lotteria, potete trovare i biglietti in vendita presso le chiese parrocchiali di Talacchio col bordo alle Montefabri, oppure dalle persone che fanno da referenti, ma non è difficile rintracciarci, verrà fatta l'estrazione il 5 di gennaio presso l'Unione Pian del Bruscolo e ci sarà un pubblico ufficiale, quindi una cosa tutta regolare e verranno riportati i vincitori sui giornali principali, il resto è il Carlino Corriere Adriatico. I premi sono 41, il primo premio al valore è di 2.400 euro ed è una bicicletta elettrica, quindi utile sia a un adulto che a un bambino.